Un cappellino, delle bolle di sapone, uno zainetto, un peluche, sono solo alcuni dei regali che la Fondazione Tommasino Bacciotti dona ai bambini dell'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. Come ogni anno continua la tradizione natalizia, si cerca di regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati. Certo, questa è la nostra missione che ormai da 20 anni, il giorno prima di Natale, il 24 decembre, insieme al sindaco di Firenze, quindi ormai sono passati, mi sembra, 3-4 sindaci in 20 anni e oggi con Dario Nardella portiamo questo pensiero ai bambini ricoverati. Il progetto della Fondazione, che dà questi 22 appartamenti a queste famiglie che vengono da qualsiasi parte d'Italia, è un progetto determinante perché diamo la possibilità, oltre a dandoli gratuitamente, di poter ricompattare la famiglia e di poter ricreare quell'ambiente familiare che lasciano dal paese di provenienza. Il 96% di famiglie vengono da fuori regione e questo noi vogliamo che affrontino questo percorso nel modo più importante e più bello possibile, malgrado la malattia del figlio che li sta portando avanti in questa difficile realtà, che è quella del tumore. Che cosa ricevete in cambio da queste famiglie che aiutate? Un sorriso, un abbraccio e soprattutto una piccola lettera che quando vanno via lasciano una testimonianza a Tomasino, a tutti i volontari, a tutte le persone della Fondazione che li seguono in quest'anni perché le nostre famiglie ci stanno un anno, un anno e mezzo, sei mesi, otto mesi e questo noi vogliamo che affrontino questa loro nuova avventura fiorentina nel miglior modo possibile senza pensare a niente ma pensare solo al piccolino che deve affrontare questa terribile battaglia. E tra i corridoi si aggira un Babbo Natale particolare. Sì, è una giornata bellissima, uno dei momenti più belli che aspetto sempre con trepidazione da quando sono sindaco. Devo ringraziare Paolo, tutta la famiglia e la Fondazione Bacciotti perché questi momenti sono impagabili. Vedere i bambini con i loro occhi stupiti, pieni di meraviglia, di gioia, è il regalo più bello che io possa chiedere perché anche Babbo Natale merita un regalo.